Tesla sta per vendere le proprie allocazioni di Bitcoin, nell'ultime ore abbiamo visto delle transazioni molto sospette delimanti proprio dai portafogli di Tesla. In questo video cercheremo di capire che scenario si potrebbe presentare. Hi guys, Grier, Ryan, Gosto Crypto, alla lista di fiducia. E in questo video, guys, è un video time sensitive perché andiamo a vedere come Tesla sta muovendo le proprie persone di Bitcoin verso un altro portafoglio. E questo potrebbe significare che o abbiamo una riorganizzazione interna o invece si stanno preparando per vendere. Ricordo che Tesla adesso sta sedendo su 515 milioni di profitto non realizzato e quindi potrebbe andare a parzializzarlo vendendo una parte del proprio Bitcoin. Guys, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ma soprattutto attivate quella maledetta camparellina perché questo fa la differenza della percorso di sui mercati invece essere profitevoli. Ma prima di andare ad analizzare la situazione, poi partiamo con di dare un contesto al mercato. Poi se passiamo con l'avvisore su Coin360 abbiamo Bitcoin che negli ultimi 24 ore guadagna un 1,98% guadagna un prezzo a 67 dollari. Era diverso tempo che non vedevamo una quotazione del genere su Bitcoin. Invece abbiamo Ethereum che rimane stabile con un meno 0,35% guadagna un prezzo a 2.600 dollari. Quindi, vediamo come nelle ultime 24 ore, nonostante abbiamo visto positività su tutti i mercati, vediamo che comunque sia i nuovi caricali stanno fluendo soprattutto su Bitcoin. Da che cosa lo vediamo, molto semplicemente basta passare con la shop su TradingBoo, mettiamo la BTC Dominance e The Gambling, infatti, come nelle ultime 24 ore, abbiamo visto un'impennata per quanto riguarda questa indicazione. Questa metrica ci fa capire che peso ha Bitcoin su tutto la market cap del mercato delle virtuali. Vediamo come siamo in Salica, ora Michael Henn, esterno i cammini grafici in facchi mensili, vediamo come nell'ultimo mese abbiamo recuperato veamente tante posizioni sulla market cap, ma in realtà vediamo come abbiamo toccato un bottom al primo settembre del 2022 e da quel livello, guys, siamo andati soltanto parabolicamente verso il rialzo. Questo vuol dire che, almeno per adesso, tutta l'attenzione è concentrata su Bitcoin. Questo visto anche come gli ETF sulle borse tradizionali, come soprattutto sulle borse americane, sono un successo. Infatti, diciamo come soltanto nella giornata di ieri, abbiamo visto un inflow positivo di 360 milioni e questo sicuramente aiuta a una presa di dominance per quanto riguarda Bitcoin, che effettivamente le altcoin in generale stanno comunque bacillando. Breghiamo questa metrica anche se prendiamo in considerazione Ethereum contro Bitcoin. e breghiamo infatti come nelle ultime giorni, negli ultimi mesi effettivamente, a partire da settembre del 2022, Ethereum ha perso potere rispetto a Bitcoin di un meno 54,20%. Effettivamente questo si rispecchia anche sulla chart pura di Bitcoin. Infatti, se passiamo con un grafico daily, breghiamo come la giardata di ieri è stata molto importante per andare a confermare un massimo che ha superato il massimo precedente sul daily con una conferma di chiusura. Anche se vediamo come ieri è stata una candela di forte volatilità che per fortuna è selbica per andare a prendere comunque diversi livelli di liquidità. Effettivamente, diciamo come Bitcoin abbia regito se prendiamo in considerazione la liquidation. Sui grafico mensile, infatti, diciamo come abbiamo preso tutte le zone più importanti di liquidità che sovrastavano il prezzo dai 64.800 dollari fino ai 67.200 dollari. Infatti, vedete, dopo aver preso questo livello di liquidità, effettivamente, poi Bitcoin ha deciso che andava a ricorreggere, stormare verso il ribasso momentaneamente. Questo lo fa sempre quando preghiamo delle zone di liquidità importanti su time frame alti. Effettivamente, vediamo come abbiamo ieri raggiunto un picco di open interest di 21 miliardi di dollari per poi, dopo aver preso la liquidità a 68.000 dollari, vi massimo abbiamo ricorretto. Ma attualmente ci stiamo stabilizzando in una fase laterale sui time frame minori. E questa è un'indicazione positiva perché questo potrebbe dire che potremmo prendere il respiro per provare ad attaccare nuovamente i livelli superiori. Ricordo che i livelli superiori si trovano attualmente verso i 70.000 dollari. E effettivamente, però, se preghiamo questa trend line dinamica, stiamo testando le chiusure di questo periodo di congestione che ormai è partito da metà marzo del 2024, infatti, a partire dall'all time high a 73.800 dollari. Poi abbiamo assistito a un lunghissima fase di lateralità negli urchi di sei mesi. Guys, stiamo però vedendo una situazione che sta facendo impenselire diversi amelisti. Infatti, Tesla ha mosso i bitcoin in altri wallet. Questo pattern e questo comportamento da parte di questa entità l'abbiamo già visto più volte nella storia. E nella maggior parte delle volte, comunque, questo ha portato ad una benghita dei bitcoin stessi. L'abbiamo visto anche con lo scorso governo telesco che ha venduto e ha realizzato un profitto di 816 milioni di dollari. Inoltre, Tesla, vediamo come ad oggi ha spostato i propri bitcoin con, attualmente, se dovesse renderlo alle cifre di oggi, vediamo come potrebbe andare a realizzare un profitto di mezzo miliardo di dollari. E l'impatto, effettivamente, parlando puramente di selling pressure generato da questo dump di bitcoin, potrebbe essere poco più che maggiore del 50% dell'impatto che ha avuto le vendite del governo tedesco. Effettivamente, però, Tesla, essendo crappeggiata da comunque una entità abbastanza importante per il mercato delle virtuali, soprattutto durante lo sconsuburmarket, potremmo vedere diverse entità che decidono di andare a vendere e contribuire a un aumento di selling pressure sull'asset di bitcoin. Vi terrò informati, dobbiamo tenere sotto setto monitoraggio i movimenti che andrà a fare delle proprie all'occasione di bitcoin, lo stesso Tesla. Nonostante, show, guys, vediamo come ha un po' di volato aiutato nel breve termine. Per adesso, bitcoin sta ritestando i massimi di questa preme line discendente, il che concostenga i massimi di questa lunga fase di lateralità. Nonostante, show, volevo riportare l'antar shaft molto importante. Infatti, le waves stanno continuando ad accumulare i bitcoin che provengono dagli impassioned investors. Infatti, la scorsa settimana, gli institutional wallet, escluso, ovviamente i miners, e l'exchange hanno accumulato più di 67.000 coins a finezza di 30 giorni, sorpassando la detenzione massima di 3 del livello 9 in media o in bitcoin. Praticamente, stiamo parlando del brinchi percento della total supply di bitcoin, sgredito dagli wallet che hanno tra i mille e i 10.000 bitcoin nel proprio balance. Nonostante, show, guys, vorrei parlare di questa nuovissima promo, di Bing X, ottene fino a 3.950 dollari bonus più 13.600 hamsters. Infatti, andando ad effettuare varie tasche, come verificare i pre-YC, depositare e fare trading volume a veicola possibilità di ottenere il fio massivo di questi bonus. Guys, tutti lì qui sotto nel box, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ma soprattutto a chi fate quella maledetta campanellina, perché questo fa la differenza da perdere soldi sui mercati invece per essere profitteboli. That's right, and I took you to the money. Bye.